Salve a tutti, allora dopo oltre due settimane torno a registrare una puntata per il mio podcast approfitto di queste vacanze di Pasqua sia per riposarmi che per dedicarmi al cinema infatti proprio oggi 5 aprile è uscito in sala il nuovo film di Super Mario in animazione e spero di poterlo vedere entro questo weekend o comunque appena possibile perché Super Mario è una parte della mia infanzia quindi non vedo l'ora certo una parte della mia infanzia è anche un altro film di Super Mario quello del 1993 in live action, uno dei film più brutti della storia del cinema che però ha il primato di essere stato il primissimo film della storia ad essere tratto dai videogiochi e quindi ad aver avviato un trend che da oltre 30 anni va avanti ad Hollywood con tanti bassi e pochissimi alti infatti spero che questo nuovo film della Illumination in animazione sia un film perlomeno divertente e c'è tanta aspettativa, speriamo bene infatti stavo pensando di dedicare una puntata a quel film lì un po' per prenderlo in giro bonariamente però mi rendo conto che un film già abbastanza analizzato che è già diventato un cult o uno scult di suo a fura di parlarne e di riscoperti anche del web ne ho parlato anch'io ovviamente in un mio piccolo spazio su TikTok trovate i link in descrizione per seguirmi anche lì nelle mie mini recensioni in video al che ho deciso di tenere fede a una promessa che feci mesi fa che non ho potuto mantenere perché il lavoro e il tempo sono stati scarsissimi e quindi eccomi qua a monografare la filmografia di Damiano e Fabio D'Innocenzo due registi molto promettenti tra le nuove promesse del nuovo cinema italiano soprattutto di un cinema che non si fa più cioè il cinema di genere non solo da autore ma di genere quindi per me questi qui valgono quanto un Gabriele Mainetti quanto un Paolo Sorrentino quanto un Matteo Garrone e quanto quei pochi che tentano di tenere alta la bandiera del grande cinema italiano che per oltre 30 anni è stato infangato da pessime commedie e da drammoni pseudo d'autore tra i quali si salvava veramente poca roba allora Damiano e Fabio D'Innocenzo sono due autori che sono esplosi all'improvviso tra il 2018 e il 2021 e continuano a lavorare in pochissimo tempo hanno già girato tre film e hanno anche dedicato tempo ad altre arti e sono autori che hanno anche diviso molto per una serie di motivi innanzitutto noto che tra quelli della mia generazione quindi i trentenni e non solo non piacciono molto i loro film sono un po' sopravvalutati a modo di vedere di qualcuno inoltre c'è anche da dire che uno dei due fratelli mi sembra Fabio è molto attivo sui social e ha spesso espresso parole un po' forti contro altre persone addirittura nei confronti di politici e chiaramente quando ci si espunge in modo così estremo è ovvio che ci si attiri antipatie quanto altrettante simpatie ora io non sto qui a indagare la vita personale di questi due perché non mi interessa mi interessa analizzarli in quanto artisti e secondo me in quanto artisti sono veramente in gamba hanno sfornato tre film veramente notevoli due su tre sono per me meravigliosi e partiamo con ordine allora classe 1988 nati tutti e due il 14 luglio del 1988 quindi giusto pochissimi anni prima di me sono praticamente miei coetanei nascono a Roma nel quartiere Torbella Monaca quindi uno dei quartieri più malfamati e proletari di Roma e sono cresciuti entrambi ad Anzio e a Nettuno quindi nelle frazioni di Roma e del Laziale quindi sono due ragazzi che conoscono la periferia e conoscono la povertà perché da quello che so da quello che leggo il padre era un pescatore quindi si può dire che la loro è una vera e propria favolaccia citando il titolo di uno dei loro film forse il più bello comunque allora Fabio e Damiano si avvicinano al mondo del cinema un po' a caso perché praticamente volevano iniziare un'attività calcistica perché si erano gettati nella sezione primaverile della Lazio però a causa di un incidente al ginocchio per Damiano questa carriera si è interrotta prima di nascere però i due ragazzi sono sempre stati appassionati di arte infatti oltre che al cinema si dedicano alla sceneggiatura quindi alla scrittura infatti hanno scritto e collaborato con altri registi tra poco vi dirò un nome in particolare che ho già citato ma ve lo ripeterò sono appassionati di fotografia e di pittura infatti non è un caso che nel 2019 abbiamo pubblicato un libro dal titolo Mia madre è un'arma altro non è che una raccolta delle loro poesie e l'anno dopo il 2020 addirittura un libro fotografico dal titolo Farmacia Notturna quindi parliamo di artisti a tutto tondo che hanno iniziato a lavorare insomma un po' così svolgendo varie mansioni un po' come camerieri come baristi come giardinieri hanno fatto un po' di tutto fare pur di avvicinarsi al mondo del cinema perché non avevano una vera e propria preparazione avevano tanto cuore ma la preparazione è arrivata nel tempo ed è arrivata sicuramente guardando i film perché non ci si improvvisa registi perché sennò saremmo tutti Tommy Wiseau pensando al drum che è preso in giro mesi e mesi fa insomma questi due lentamente lentamente si fanno strade iniziando a scrivere alcune sceneggiature addirittura a dirigere alcuni cortometraggi dei quali cureranno anche la sceneggiatura se non che arriva la botta di fortuna come nelle favole arriva il lieto fine e arriva l'esordio con un film del 2018 cioè La terra dell'abbastanza un film bellissimo un film che viene presentato alla 68esima edizione del Festival del Cinema di Berlino e suscita tanto interesse tra critica e pubblico un film che tra l'altro è una piccola produzione perché è la Pepito Produzioni a produrre questo film è una produzione da 800.000 euro quindi veramente piccola tutta girata nella periferia di Roma Est se non sbaglio a Ponte di Nona che è appunto un quartiere di quella periferia è un film che tra l'altro in Italia non ha neanche incassato molto ha incassato a stento 400.000 euro però al di là delle incasse è un film che ha portato all'attenzione questi registi che hanno vinto comunque diversi premi hanno vinto un astro agento come migliori registi esordienti diversi premi in giro per il mondo e appunto Berlino è stato il Festival di Berlino è stato proprio un lancio incredibile e tant'è che lo stesso anno cioè il 2018 sarà proprio Matteo Garrone a chiamarli a sé per aiutarli per farsi aiutare scusate nella sceneggiatura del meraviglioso Dog Man quindi vedete proprio un'esplosione col botto si sono trovati al posto giusto nel momento giusto due perfetti sconosciuti con tanta passione che per botta di fortuna con un film meraviglioso messo in scena benissimo presentato al posto giusto al momento giusto sono esplosi e sono stati chiamati da un regista di fama posso dire mondiale perché Garrone è forse tra i pochi grandi registi di questa generazione degli ultimi 20-30 anni che viene amato in tutto il mondo e soprattutto all'estero in Francia in Europa e in America insieme a Paolo Sorrentino quindi insomma questi giovani che esordiscono che vengono chiamati da Garrone per ultimare la sceneggiatura di quel grande film che è Dogman quindi si introducono sempre più nel mondo di cinecittà in quel mondo bellissimo quanto disgraziato che è il cinema e arrivano a girare in tre anni cioè dal 2018 al 2021 ben tre film ora so che in lavorazione anche un prodotto per la televisione dal titolo Dostoevsky non so se lo vedrò e quando lo vedrò però lo attendo con tanto tanto piacere insomma La terra dell'abbastanza è un esordio folgorante perché è veramente un film strepitoso storia di due ragazzi Mirko e Manolo che frequentano appunto la periferia di Roma vanno a scuola la scuola alberghiera sono ragazzi che si dedicano molto molto passivamente alla scuola i classici buzzurri romani se non che una notte investono un tizio scappano senza soccorrerlo e si scoprirà poi che questo tizio apparteneva a una banda di malavitosi era un pentito di un piccolo clan e questo incidente in realtà sarà la prepista per questi due ragazzi per introdursi nella malavita anche sotto il consiglio di Danilo cioè il padre di uno dei due allora il film in teoria dovrebbe essere un dramma ma in realtà è un vero e proprio gangster movie è un noir come non se ne vedeva da anni forse l'ultimo noir veramente bello è stato il meraviglioso non essere cattivo della buonanima di Claudio Caligari che uscì nel 2015 non incassò niente ma che per fortuna grazie ai vari passaparola è diventato ed è stato apprezzato per quello che è cioè è un grandissimo film e poi noir gangster quasi polizieschi tra virgolette non se ne vedevano da anni cioè veramente quasi nessuno ci ha provato negli anni 2000 se non Caligari o altri pochissimi e ci provano questi due girano un noir che non è simile ai noir di Fernando Di Leo al cinema degli anni 70 perché appunto negli anni 70 noir polizieschi ne facevamo tanti sia belli che brutti ma soprattutto un Di Leo per esempio era un maestro del genere e girano un film che chiaramente ripesca da altri da altri registi rimanda ad altre cose però è un film che è personale ed è un esordio incredibile perché innanzitutto i due registi sanno già come mettere in scena e come girare un film simile sfruttando il basso budget è un film fatto di tanti primi piani di tanti campi e controcampi di piani sequenza lunghi interminabili con camera a mano o macchina fissa e ogni tanto sorprendono con movimenti di macchina e con carrelli e dolli studiati molto particolari e poi mi piace la fotografia di questo film è una fotografia tutta in notturna è un film girato per metà in questa Roma in questa Roma Est in questo quartiere romano di notte però la notte è cupissima perché viene tagliata da questi tagli di luce attratti al neon tra il verde e il viola infatti è una scena terrificante è l'entrata di Mirko se non sbaglio in questa stanza e la camera è alle sue spalle fissa e lo segue e quella scena sembra rubata da un film di Nicholas Winding Refn quindi i registi si vede che già con questo primo film prendono spunto da grandi per crearsi un loro stile e quindi Mirko che entra in questa stanza è noto a questo vecchio che sbava su una ragazzina minorenne mentre ci consuma un rapporto sessuale anzi un vero e proprio stupro ed è una scena terrificante cioè questo film mi ha fatto venire i brividi purtroppo non lo vedi al cinema mea colpa l'ho recuperato è stato il secondo film che ho recuperato di questi registi lo vedi su Rayplay non so se ci sia ancora ma nel caso ci fosse vi consiglio di fiondarvi a guardarlo subito o comunque a noleggiarlo sulle piattaforme on demand perché è tanta tanta roba e quindi è un film che mi ha lasciato a bocca aperta proprio una ventata d'ara fresca incredibile perché mi ha messo in scena benissimo poi è recitato in modo egregio da tutti abbiamo Andrea Carpensano e Matteo Olivetti come attore protagonisti sono questi due ragazzi che sono incredibili soprattutto Matteo Olivetti che è praticamente esordiente ed è bravi sono bravissimi sono sembrano incredibili l'uso anche del vernacolo il dialetto romano però veramente quello stretto scandito anche da parolacce da bestemmi da blasfemie mi ha colpito molto sembra un cinema di genere che si mescola quasi col neorealismo a tratti pur non essendo di quella sponda cioè un film di genere puro che racconta una storia racconta uno spaccato del proletariato romano terrificante racconta quella che è la delinquenza romana almeno una certa delinquenza che non si basa sulla droga o sulla vendita di armi ma si basa sulla vendita anche della carne la vendita di ragazzine anche non italiane vendute come fossero oggetti quindi già da qui si evince un marchio di fabbrica di due registi soprattutto pensando ad alcuni dialoghi dei due ragazzi cioè analizzare il maschilismo mettere a nudo il maschilismo e l'idea del maschio alfa italiota che non c'è non esiste e non esisterà mai più se non in quartieri malfamati cioè il denunciare la bassezza e la pochezza dei maschi piccoli insignificanti quasi fascistelli tra virgolette perché questi due sono veramente i due protagonisti sono veramente scalmanati sono sporchi sono rozzi sembrano veramente dei fascistelli pronti anche per le acconciature con questi capelli uno dei due ha i capelli rasati sembra quasi nazisking quindi sembrano quasi degli scalmanati pronti a entrare in un bar e fare una strage e infatti è quello che poi fanno durante il film cioè questi due entrano di petto nel mondo della malavita e non si fanno scrupoli il fatto è che il film analizza anche le psicologie dei due che andranno sempre più a lacerarsi soprattutto quella di uno perché entrare così di petto nella malavita è l'idea di avere il potere sugli altri di guadagnarsi i soldi il potere sul sangue degli altri degli innocenti porterà lentamente questi due in qualche altro posto in un posto del buio dell'anima passatemi il termine infatti una scena molto bella molto particolare riguarda un amplesso sessuale tra Mirko se non sbaglio e la fidanzata infatti mi piace molto l'inizio del film con Mirko a parte la scena dell'incidente che è veramente tesissima ma poi anche il rapporto con Mirko che fa l'amore con la fidanzata e sembra un ragazzo quasi d'oro ce l'abbiamo visto un attimo prima grezzo sporco lurido e poi un attimo dopo in intimità con la ragazza sembra un ragazzo quasi d'oro normalissimo nel momento in cui entra a far parte della malavita si allontana sempre più da scuola diventa sempre più spostato tra virgolette legato a un mondo troppo più grande di lui diventa un mostro diventa un orco infatti a metà del film lui e la fidanzata riconsumano un rapporto però lui sembra quasi violentarla è un rapporto violento infatti lei si alza e scappa via piangendo quasi come fosse stata trattata come una una puttana passatemi il termine come una donnetta facile questa cosa mi ha lasciato i brivi è un film che lascia il segno che mi ha fatto proprio star male mi ha lasciato un senso di di terrore quasi un film dell'orrore pur non essendolo era perché è un war è un gangster è un gangster movie però proprio come analizza questi due ragazzi c'entra sempre più di dire i registi sono proprio bravi a delineare le psicologie di questi due che lentamente si ritrovano a giocare un gioco che non gli appartiene cioè la delinquenza che non appartiene a questi due sbandatelli che forse se si fossero applicati un po' di più nello studio nella cultura se avessero scelto altre strade magari avrebbero avuto magari anche una vita umile ma perlomeno più dignitosa e meno autodistruttiva perché il film porta soprattutto nel terzo atto all'autodistruzione totale all'agnentamento totale di entrambi non sto a dirvi come dovete vedere il film per chi non l'avesse visto perché è veramente una sorpresa e lascia bocca aperta io sono rimasto esterrefatto alla prima visione e ancora oggi ancora adesso che ve ne sto parlando ho ancora in scena ancora in testa almeno una decina di scene tra l'altro tra gli attori c'è da segnalare un Max Tortora bravissimo che interpreta il padre di Manolo bravissimo in un ruolo drammatico è incredibile quando piange a un certo punto per una determinata scena è bravissimo se penso a me che Max Tortora è ricordato purtroppo per i Cesaroni o per prodotti televisivi comici che per carità è anche bravo è come comico però vederlo in vesti drammatiche fa scalpore cioè è bravissimo è incredibile ma sono tutti bravi c'è addirittura in un piccolissimo ruolo Luca Zingaretti che interpreta un piccolo gangster un piccolo capo un piccolo gangster di questa setta tra virgolette perché è una vera e propria setta perché i Dignocenzo grazie alla fotografia ai movimenti di macchina alla messa in scena totale mettono in scena questi delinquenti quasi come fossero una setta inumana che gioca sulla pelle degli altri sia vendendo droga che armi o addirittura compiendo strage uccidendo persone magari piccoli commercianti o addirittura commissionando tra virgolette degli omicidi ma poi si entra nel campo appunto della pedofilia del trattare la carne umana del vendere ragazzine come fossero merce ed è terribile cioè è un film veramente crudo tristissimo un'ora e mezza che lascia il segno e che non se ne va più quindi un grandissimo film non voglio dire altro perché ho paura di perdermi e più che altro voglio che lo scopriate qualora non l'abbiate visto perché è veramente una grande sorpresa dopo questo successo non tanto di botteghino ma in realtà di pubblico e di passaparola arriva nel 2020 un secondo film e questa è una produzione già un po' più grande perché è una coproduzione Italo-Svizzera un film che esce nel 2020 quindi in piena pandemia e chiaramente fa un flop micidiale incassa neanche 200.000 euro cioè veramente niente proprio niente ricordo che fu proiettato in qualche cinema all'aperto durante alcuni momenti di pausa tra virgolette durante l'estate del covid però poi si sa a ottobre alla fine del 2020 si tornò di nuovo chiusi e quindi il film per fortuna è stato rilasciato sulla piattaforma Prime Video infatti l'ho visto lì per la prima volta è un film che ha fatto un successo incredibile ha fatto parlare tanto di sé e ha vinto tanti premi innanzitutto è tornato al festival di Berlino e stavolta è arrivata la consacrazione l'orso d'argento per la migliore sceneggiatura quindi due registi giovani che hanno già fatto un esordio folgorante arrivano al secondo film e vincono addirittura uno dei premi più importanti cioè questi due questi due così giovani già hanno una strada spianata incredibile devono stare attenti perché è facile cadere nella trappola dell'autocompiacimento e quindi ripetersi e scadere e perdere smalto però il fatto che così giovani e già il secondo film vincano premi su premi e soprattutto premi importanti vuol dire tanto poi se sono italiani ha tanto di cappello e Favolaccio è un film strepitoso per me è un mezzo capolavoro etichettato come drammatico o thriller per me è un vero e proprio film dell'orrore è un horror è un horror sotto mentite spoglie che racconta una serie di episodi di vita nel quartiere Spinaceto quindi i Dingo Cenzo tornano a raccontare la periferia romana o in generale laziale Spinaceto era stato già citato nel film caro diario di Nanni Moretti però in modo divertente stavolta i due ci vanno di petto e raccontano un film che è appunto dell'orrore raccontando una serie di episodi di vita di alcune famiglie tra cui abbiamo la famiglia di Elio Germano e i figli e altre famiglie madre e padre di una bambina costretta a portare una parrucca perché costretta a essere rasata a zero per motivi futili più un'altra famiglia composta da un padre e da un figlio il quale è molto chiuso in se stesso il padre sembra quasi un ragazzino però tra tutti pur nella sua ingenuità è quello che più ama il figlio e più ci tiene più tiene a salvarlo da quel microcosmo perché il quispi in aceto non è tanto una zona di Roma abbandonata ma sembra quasi una trappola una gabbia una gabbia psicologica e una trappola mentale ancora una volta i registi tornano a parlare della mascolinità tossica soprattutto nel personaggio di Elio Germano questo padre terribile terribile questo maschio tremendo che vede i figli quasi come un oggetto da esporre in bacheca infatti terrificante già l'apertura del film già torna Max Tortora come narratore che praticamente racconta una storia che potrebbe essere vera forse no o forse sì e tutto trascritto su un diario quindi anzi la voce narrante dice che continua a raccontare quella storia trasformandola quindi è un vero e proprio film dell'orrore perché perché qualcuno dovrebbe prendere un diario trovato nella spazzatura e riscriverlo o continuarne il racconto e questo è uno spunto molto molto interessante e terrificante quindi il film mescola la favola nera è l'orrore perché appunto la storia dei vari personaggi Elio Germano dicevo è questo padre che vede i figli appunto all'inizio del film ha una scena con altre famiglie del quartiere in tutte queste casette in queste villette in queste mini villette che sono proprio un microcosmo sono tante piccole gabbie tra virgolette sia fisiche che morali e che psicologiche e Elio Germano che prende i figli e li obbliga a dire ad alta voce i voti delle pagelle quasi come a volersi vantare di avere dei grandi figli studiosi è che è un film di bambini bambini intelligenti quanto pericolosissimi ma è un film anche di adulti che sono più infantili dei bambini stessi più distratti da una vita fatta di monotonia fatta di niente fatta di nulla e Spinaceto a tratti sembra quasi non lo so un luogo a parte abbandonato a se stesso ma sembra un luogo spoglio morto quasi da western però al contrario perché veramente è un posto nel quale non c'è niente almeno loro la descrivono così a parte l'uso della fotografia che è molto più accesa stavolta stavolta si fa l'opposto se la terra dell'abbastanza era un film cupo qui il film è cupo all'area cupa però giocano per non per sottrazione ma fanno l'opposto la fotografia è colorata molto accesa il tutto il tutto ambientato durante una affosa estate e questi toni caldi quasi pastello della fotografia meravigliosa rendono non so quasi viva tra virgolette questa sensazione di calore ma anche di soffocamento si avverte quanto i bambini delle varie famiglie che sono ragazzini tra i 12 13 anni quindi ragazzini delle scuole medie in realtà siano più adulti degli adulti stessi e si sentano in trappola in un quartiere che non li capisce un quartiere nel quale tutto è morto e questo microcosmo in realtà diventa l'Italia intera diventa l'allegoria di un'Italia intera di un'Italia che è stata immobile per troppi anni a livello sociale politico in un'Italia nella quale tanti diritti sono stati calpestati pensiamo ai diritti delle donne ai diritti anche del popolo stesso che è stato affamato sempre più sempre più sempre ridotto più alla disgrazia sempre un popolo sempre più sgraziato e sempre più ignorante sempre meno dedito alla cultura alla lettura e all'arte stessa infatti un esempio dato che si parla di cinema l'idea stessa delle sale cinematografiche che ormai vengono disertate soprattutto i film italiani vengono disertati perché il pubblico stesso è spiduciato e non ci crede più infatti per esempio un Freak's Out di Magnetti che per me è un buonissimo film di genere fantasy deve far flop mentre un film Marvel qualsiasi anche quello più brutto deve incassare per carità non è un attacco alla Marvel però è per far capire quanto il pubblico italiano medio ormai si sia affezionato a un brand e non si stacchi dall'idea che possa esserci anche qualcos'altro di meglio o comunque alla pari e quindi Favolacce ora ho divagato un po' ma in realtà Favolacce è proprio lo specchio di questo lo specchio di tante persone di tanti soggetti umani che in realtà sono allo sbando che non sanno fare genitori non sanno fare i mariti non sanno fare i padri Elio Germano tra tutti è bravissimo interpreta questo padre che sembra anche qui un azischking perché ha questi capelli rasati è un violento infatti è terrificante la scena nella quale di notte sono sull'autostrada lui si ferma un distributore di benzina afferre il figlio lo porta dietro a una siepe e lo riempie di botte mentre la sorellina in macchina piange una scena terrificante cioè un vero film dell'orrore ma qual è il concetto del film? è quello che ho già detto ma in realtà è anche raccontare il modo in cui i bambini vedono gli adulti e li vedono in un modo quasi pietoso infatti i bambini sono l'antitesi di questi adulti sono attaccati alla cultura amano leggere amano dedicarsi a cose semplici come appunto piccoli esperimenti scientifici che poi in realtà si rivolteranno contro loro stessi non vi dico come e poi c'è un finale che chiude appunto questa serie di favolacce perché appunto il film il titolo è fedele al concetto del film il film è una serie di episodi ma sono anche una serie di quasi favole favole moderne nirissime horror e c'è un finale che chiude queste favolacce perché c'è anche una strega o stregone non dirò chi che tramite una frase tramite un consiglio darà il via darà un input a questi bambini per liberarsi da queste gabbie il risultato sarà tremendo sarà anzi una sveglia totale e nauseante e terrificante per questi genitori distratti ed è un film che a me ha lasciato il segno ancora una volta mi ha lasciato una tristezza e un senso di malessere nella sua ore e mezza ore e quaranta di durata è un film che io rivedrei almeno una volta al mese per quanto sia molto crudo ed è un film anche sperimentale perché non solo è girato e messo in scena benissimo però è un film che sperimenta sperimenta con inquadrature particolari che sono inquadrature riprese sott'acqua due fratelli che si guardano sott'acqua tramite uno scambio di uno sguardo si dicono tutto e esprimono anche la loro tristezza e la loro inadeguatezza in quel mondo oscuro addirittura altri ragazzini che si vanno a nascondere in zone abbandonate e vorrebbero consumare il primo rapporto sessuale però forse c'è timidezza o forse no quindi è un film molto molto particolare che in realtà sbanda tra i generi a tratti riesce anche a essere un po' grottesco ecco l'unica nota stonata che io trovo è la recitazione dei bambini che diciamo non sono propri attori professionisti però comunque è da lodare l'impegno dei registi perché appunto rendono credibili questi bambini se sembra appunto un cinema quasi neo-neorealista per quanto sposato alla causa del cinema di genere perché questi bambini appunto sembrano presi dalla strada letteralmente sono ragazzini che non sanno recitare ma appunto per questo mi piacciono perché sono naturali sono sinceri in quello che dicono magari la dizione non è perfetta però incredibilmente ci si crede gli si vuol bene e quindi ho voluto bene a questi personaggi ho voluto bene a tutti a tutti anche gli attori adulti Barbara Chichiarelli molto brava Gabriele Montesi anche Lino Musella attore napoletano molto bravo che interpreta un ruolo importantissimo non dirò quale è insomma un film meraviglioso un film che lascia il segno un film tremendo non dico altro se no rischierei di perdermi ma in realtà ci sarebbe io potrei parlare anche per ore di questo film soltanto per descrivere scena per scena perché veramente qui ogni 15 minuti c'è una scena che vale la visione c'è Elio Germano che ha questa piscina nella quale tutti i bambini fanno il bagno e poi la distrugge così a caso dicendo che sono stati gli zingari quindi l'idea ancora una volta è il razzismo dell'uomo medio italiano che purtroppo non vuole estinguersi quando in realtà è già morto quindi mi piace di questo film l'idea di questi adulti che sono già morti non se ne rendano conto è l'idea che i bambini in realtà vogliano vivere ma per vivere debbano vabbè non voglio spoilerarlo però in realtà debbano commettere qualcosa di estremo arrivare a qualcosa di più grande di loro per trovare la libertà non dico altro se no veramente ve lo spoilerizzo per chi non l'avesse visto per chi l'avesse visto mi capirà perfettamente è un film che mi ha lasciato mi ha lasciato tanto anche le facce i volti i volti dei bambini questi bambini esordienti anche non professionisti hanno dei volti incredibili che lasciano il segno bucano lo schermo c'è un film veramente incredibile è incredibile e c'è solo il dispiacere che non abbia incassato a causa del covid e che purtroppo abbia anche diviso perché sento anche su internet leggo di gente che ha schifato questo film che lo reputa una paccottiglia un film fasullo un film fintamente d'autore per me questo è un mezzo capolavoro poi liberissimo di sbagliarmi ma per me è veramente un mezzo capolavoro cioè un film tra virgolette dell'orrore che in realtà abbraccia altri generi pur essendo realistico ma al contempo favolistico e finto come appunto è finto il cinema e raccontando una storia che sbanda tra la finzione e la realtà e facendo una grande allegoria del peggio dell'italiano medio e dell'Italia tutta e quindi io non posso chiamarlo quindi anche un film anche sociale e politico in un certo senso per quanto sia surreale e sperimentale e quindi io non posso chiamarlo non posso che lodare questi registi che hanno rischiato e che rischieranno anche col film successivo che è del 2021 esce però a inizio 2022 nei cinema anche questo dura un'oretta e mezza circa ed è America Latina torna Elio Germano come protagonista e il film è stato presentato al festival del cinema di Venezia è stato accolto in modo un po' freddo nonostante però abbia vinto comunque qualcosa ha vinto il nastro d'argento l'anno scorso per il miglior soggetto che è molto interessante e ha diviso anche questo anche questo abbastanza bistrattato su internet è bistrattato anche da certa critica ma anche da certo pubblico sicuramente America Latina è un film minore rispetto a quella bomba di favolacce però è un film comunque molto molto coraggioso interessante ed è anche una storia semplicissima cioè Massimo Sisti è un dentista cioè Elio Germano è un dentista che vive con la moglie e le figlie adolescenti in questa villa nei dintorni di Latina ecco il film si chiama a me si intitola America Latina per questo appunto perché America perché già i titoli di testa con queste inquadrature con questi movimenti di macchina che riprendono questa che sembra una prateria all'americana ma in realtà sono i dintorni della periferia di Latina quindi appunto anche la villa del protagonista sembra una villa all'americana peccato che siamo nei dintorni di Latina appunto siamo nella periferia laziale quindi è questo Massimo Sisti questo dentista che sembra vivere una vita normale se non che un giorno scende giù in cantina e trova una ragazzina legata contro la sua volontà chi ce l'ha messa? è un poliziesco? no è un thriller un thriller ancora una volta sperimentale anche per la messa in scena ma anche per alcune scelte anche cromatiche di fotografia e quant'altro ma è anche un film drammatico e ogni tanto sbanda anche un po' nell'orrore un orrore dell'anima ancora una volta i Deonocenzo raccontano il maschilismo però in un modo stavolta più intimo e più dolente è un film che veramente si sposta più verso il dramma pur riuscendo a far paura perché è veramente un thriller che riesce a essere teso e a funzionare bene certo chi mastica il genere a metà film forse già indovinerà come andrà a finire ecco questa è l'unica nota stonata è questo diciamo la sceneggiatura a un certo punto è un pochino prevedibile per quanto i registi mettano in scena benissimo il film è girato meravigliosamente c'ha una scelta di inquadrature anche coraggiose cioè inquadrature storte primi piani sghembi particolarissimi un uso del montaggio ora lento ora frenetico velocissimo che dà l'idea proprio della tensione e anche della della impazienza tra virgolette della pazzia che lentamente si fa a strada nella mente e nel cuore del protagonista e anche della sua tristezza perché veramente qui Elio Germano è si dimostra ancora una volta uno dei migliori attori italiani degli ultimi vent'anni ma è veramente spettacolare c'è un uomo che riesce a essere spaventoso come un orco mi piace tantissimo una scena in notturna con lui che esce dalla doccia e con questa macchina a spalla che lo riprende da dietro e lui che cammina in modo lento anzimando quasi fosse un orco famelico l'uso dei colori delle luci al neon verdi rosse viola soprattutto in notturna è che è un film che ancora una volta torna con i quali i registi tornano a sperimentare e stavolta però è un film che vuole indagare la mente umana che vuole indagare la mente di un uomo alla fine solitare un uomo che sembra convinto di una sua realtà che forse non è tale non vi dico altro se non ve lo spoilerizzo però un uomo che sembra convinto del bene che ha è convinto di essersi costruito ciò che desiderava ma comunque deve fare i conti con i fantasmi del passato i fantasmi sono appunto il maschilismo e la violenza dell'uomo sulla donna la supremazia di una certa mascolinità tossica di stampo fascista che è perenne infatti su questo è fondamentale l'incontro con il padre che tra l'altro è una scena che dura due minuti ed ha un impatto incredibile padre e figlio che si scontrano il padre che rinfaccia il figlio di non essere alla sua altezza il figlio che va via piangendo e poi viene coccolato dalla moglie che è una scena che in realtà dovrebbe essere drammatica dolce invece è tristissima è ricca di una tensione incredibile c'è un film che riesce ad essere sempre più teso diventa sempre più folle e chiaramente ripeto nel terzo atto i nodi vengono al petting un po' presto si comprende già dove andrà a parare certo è che il film non manca di suspense non manca di sorprese e la regia dei due fratelli è perfetta la performance di Germano è incredibile tra l'altro c'è una nota particolare che dopo il festival del cinema di Venezia sul finale è stata aggiunta una voce narrante che spiega il finale questa cosa ad alcuni ha dato fastidio a me no è una cosa in più però è qualcosa che spiega ancora di più il personaggio cioè questo uomo questo piccolo uomo che in realtà è vittima appunto di se stesso è di un qualcosa di più grande che ha creato anche la ragazzina stessa diventa quasi un elemento quasi secondare a un certo punto in realtà è un elemento principale perché comunque è tutto ruoto intorno a capire chi sia questa ragazzina cosa ci faccia lì e perché però diventa a un certo punto quasi secondare è un film quasi quasi un one man show oserei dire è quasi tutto sul Germano e sulla sua psiche e su quello che è diventato o sulla società intorno che lo ha fatto diventare così anche sulla solitudine e sul non parlarsi e sul non ascoltarsi che lo ha trasformato in un qualcosa che credeva di non essere non vi dico altro perché questo è un film veramente da scoprire anche perché mi pare che non abbia incassato molto e anche questo ha diviso parecchio il pubblico e sicuramente è un film minore però ragazzi ce ne fossero di film tra virgolette minori così questo è un buonissimo thriller come non se ne fanno più e ha alcune scene di forte impatto e già solo per la performance di Germano per la messa in scena di Innocenzo per l'uso della fotografia e per l'attenzione di alcune scene soprattutto di due terzi del film vale assolutamente la visura quindi qui si chiude questa mia monografia un po' sgangherata un po' ripetitiva piena di errori però non mi va di andare oltre perché vorrei che chi non conoscesse questi registi li scoprisse anche perché i loro film sono tre sono facilmente reperibili o sulle piattaforme o a noleggio e chi li ha criticati spero che possa insomma rivalutarli o comunque io rispetto l'idea di tutti però da qui a dire che questi due siano personaggi che se la cantino e se la suonino o siano dei narcisisti addirittura o che il loro cinema sia povero con tutto il rispetto io non sono d'accordo non sono d'accordo per me il loro cinema è un cinema di rompente un cinema di rottura un cinema politico e sociale che in realtà abbraccia il genere che in realtà potrebbero guardare tutti chiaramente non i più piccoli perché sono film anche abbastanza forti crudi soprattutto il primo film ma anche il secondo non scherza però sono quei film che incredibilmente farei vedere più che ai bambini magari già un adolescente con favolacce o una terra dell'abbastanza anche a scopo didattico li farei vedere per capire che cos'è il peggio dell'italiano medio e che cos'è il peggio della delinquenza e che cos'è anche il peggio delle mostrucità umane che si nascondono anche dietro l'angolo anche nei meandri della nostra mente pensando ad America Latina soprattutto quindi questo è tutto io abbraccio e saluto i Dingo Cenzo caso mai dovessero ascoltarmi e abbraccio tutti voi vi auguro buone feste di Pasqua vi auguro tutto il meglio vi auguro il miglior cinema del mondo vi auguro vi auguro tutto vi auguro ogni ben di Dio che possiate andare al cinema che possiate riscoprire questi tre film sperando che vi piacciono che possiate andare al cinema a vedere qualunque cosa vi pare basta che andiate al cinema perché il cinema sta morendo e ha bisogno di noi detto questo vi saluto ancora auguri di buona Pasqua e ci sentiamo presto con non so cosa vedremo vi sorprenderò come sempre e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti